Gentili telespettatori, buona giornata. Marco Rizzo, l'ex segretario del Partito Comunista Italiano, dice un qualcosa che in molti fanno finta di non vedere. Mi è arrivata anche a me una riflessione. Uno di voi, che mi ha mandato il libro, mi dice, visto che è un ex militare in pensione, mi dice questo come spunto di riflessione. Ma scusa, dice Luca, ma uno che era al comando della Folgore, le unità d'élite delle forze armate, uno che è al comando dei paracadutisti della Folgore, uno che ha il comando degli incursori della Marina, del Colmoskin, uno che era al comando del contingente italiano in Afghanistan, al comando del contingente italiano in Iraq, al comando del contingente italiano in Jugoslavia, dappertutto comandava lui. A un certo punto finisce al comando dell'istituto geografico, dove fanno le cartine geografiche. C'è qualcosa che non funziona. Sembra tanto un demansionamento. E poi, naturalmente, uno si chiede, come mai hanno demansionato questo vannacci? Secondo Marco Rizzo, e anche secondo me, che è il presidente onorario del Partito Comunista, il generale di divisione vannacci, come mai? Prima di tutto, uno che ha avuto degli incarichi così importanti avrebbe dovuto accedere allo stato maggiore? Avrebbe dovuto passare da generale di divisione? Sapete che generale c'è generale di brigata, che è la greca e una stella, generale di divisione, la greca e due stelle, generale di corpo d'armata, la greca e tre stelle. Dopo generale di corpo d'armata si entra eventualmente nello stato maggiore della difesa e lì si può avere l'incarico speciale, quindi si può avere la quarta stella bordata di rosso. Quindi a quel punto sei generale di corpo d'armata con incarichi speciali. Un generale di questo calibro oggi, a più di 54 anni, dovrebbe essere nello stato maggiore della difesa con incarichi speciali. E invece dice no. Come mai non è arrivato a quel livello una persona che aveva il comando dell'elite, delle forze armate e delle forze anche di reazione rapida della Nato? Perché la folgore e gli incursori della marina sono inseriti nelle forze di reazione rapida della Nato. Come mai il generale rimane di divisione e non è diventato di corpo d'armata e con incarichi speciali? Marco Rizzo dice che è stato fatto fuori per le sue passate denunce sull'uranio impoverito. Non ero a conoscenza che il generale Vannacci avesse presentato ben due esposti alla procura militare e alla procura ordinaria di Roma nelle quali denunciava gravi e ripetute omissioni nella tutela della salute del contingente italiano. La questione dell'uranio impoverito nelle munizioni eccetera eccetera ha fatto molte vittime. Quindi il generale non pensava solo alla carriera ma pensava anche ai militari che erano impegnati che erano sotto il suo comando. Quindi ha denunciato alla procura militare e alla procura civile quello che è successo con l'uranio impoverito. E così guarda un po' il generale non fa più avanti come carriera e il generale dal comando della folgore diventa comandante dell'istituto geografico. E' chiaro? Ecco. Ma Marco Rizzo dice, ha continuato l'esponente di democrazia sulla repubblica, il generale diventa un personaggio pubblico non per queste denunce ma per le sue opinioni personali e oggi scritte nel libro, il mondo al contrario e viene prontamente rimosso. Quindi il generale già demansionato in passato viene demansionato ancora perché gli tolgono anche l'istituto geografico e lo mettono a disposizione. E dice Rizzo chissà se la rimozione sia davvero scattata per le sue opinioni personali o per altro. Meditate. Marco Rizzo vi sta dicendo non vi posso dire ufficialmente che è stato rimosso per questo ma io vi racconto che uno più uno più uno più uno più uno fa un certo numero però non sono sicuro e fate voi la somma. Questo sta dicendo Marco Rizzo. Io non vi posso dire che è successo realmente ma valutate voi, anzi meditate dice, meditate gente. La teoria è quella del complotto, ma complotto, complotto. Ha messo nei guai l'esercito con l'uranio impoverito e i politici e guarda caso demansionato arriva all'istituto geografico dopo le sue denunce. Qualcuno mi fa riflettere e dice magari il libro è anche una vendetta, il libro magari è stato fatto anche apposta per far su un bel casino sapendolo, sapendo che sarebbe poi diventato un grosso problema, proprio dice tanto che cosa ha da perdere. Non l'hanno fatto progredire un generale di questo livello, lo hanno demansionato e accantonato aspettando che vada in pensione e allora lui dice adesso vi faccio io un bel libricino, adesso vi sistemo io. Può essere che il generale lo abbia fatto anche come sfida, no? Ah sì? E adesso beccatevi questo. Bene. Secondo l'ex sindaco di Roma, Crosetto ha offeso uno dei migliori ufficiali dell'esercito, che viene dai corpi speciali che era stato già censurato per aver avuto il coraggio di dire cosa pensava dell'uranio impoverito alla commissione parlamentare. Questo gli aveva causato l'esilio all'istituto geografico militare. Quindi come dice Marco Rizzo, meditate gente, meditate. Questo è uno che non ha peli sulla lingua, questo è uno che dice le cose, ma siamo in un paese dominato dal politicamente corretto e poi il problema che quando pesti piedi a qualcuno vieni demansionato nella migliore delle ipotesi. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.